Oltre a essere un onore è stata un'esperienza molto costruttiva perché comunque far parte di una compilation di una colonna sonora di una fiction così seguita e così importante è qualcosa che comunque fa bene a me e fa bene anche alle persone che credono in me, che mi stanno vicine e che mi vogliono bene quindi diciamo che è un traguardo importante e anche una piccola vittoria e sono molto contento Il rapporto con Nicolò è nato già tre anni fa e oltre ad esserci un rapporto professionale c'è anche un rapporto di amicizie quindi ringrazio lui che ha ritenuto opportuno chiamarmi per fare parte di un progetto così importante e bello È un successo molto, cioè penso per chi ha fatto parte ancora più di me in questa cosa molto gratificante perché è una tematica appunto delicata e comunque non è facile arrivare alle persone, a tante persone con temi così duri e crudi come appunto l'ambiente dell'ospedale, le persone malate e quindi penso che sia un successo enorme e vive Braccialetti insomma è capitato perché ha fatto parte anche della fase di registrazione di altri artisti mi è capitato di affezionarmi anche ad altre canzoni però sono contento di sogni col motore perché diciamo che la sento molto mia e quindi mi fa piacere anche assolutamente cantare questa canzone però ce ne sono anche altre che sono veramente molto belle Davide sta nascosto tra gli ultimi suo padre lo sveglia molto prima del sole però c'è un giorno che anche io potrò spiegare a voi il mondo che mi immagino che non vedete mai che sa divento il buon umore dei sogni col motore quelli che ho quelli che ho